Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Prima però vi ricordo che stasera Raw è alle 18.20 circa su Sky Sport 1, il canale 201. Se per caso non riuscite a vederlo, per ora la prima replica in palinsesto è fissata già stasera alle 22.30 circa su Sky Sport Arena, il canale 204. E ora apriamo il notiziario parlando della prossima puntata di SmackDown, quella che vedremo con il commento in italiano domani, perché per questa edizione dello show blu la WWE ha annunciato che Daniel Bryan sarà ospite di Meets TV e lo scambio verbale tra i due io non me lo voglio perdere. Mentre Asuka, Charlotte Flair e Becky Lynch firmeranno il contratto che le impegnerà a lottare a TLC in un match con tavoli, sedie e scale. I rumors del giorno sono abbastanza numerosi, ma riguardano tutti lo stesso settore, ovvero la situazione contrattuale di numerose star WWE. Prima di enunciarveli e di addentrarmi nelle analisi, io vi ricordo che questo è il settore più critico per quanto riguarda l'informazione connessa al wrestling. Un settore nel quale bisogna sempre partire da dati insicuri e incerti e che richiede pertanto parecchia prudenza. Non credete a tutto quello che leggete in giro sui compensi o se vuole durate degli accordi tra federazioni e combattenti, perché qui regna davvero il caos. Ciò detto, ci sono comunque notizie che sembrano avere un'attendibilità maggiore di altre. E la prima riguarda la trattativa di rinnovo tra WWE e DJ Styles, che sembra essere meno agile, meno fluida del previsto, sia per le richieste economiche del combattente, che probabilmente è arrivato per motivi anagrafici e non fisici o di funzionamento tecnico, dicevo che probabilmente è arrivato all'ultimo e più ricco contratto della sua carriera e dunque vuole ottenere il massimo e le garanzie più elevate dalla federazione. La trattativa non è agile anche per le esigenze però della compagnia, che da tempo pare stia proponendo degli accordi ai suoi atleti di durata medio-lunga per preservare i suoi investimenti e decidere con calma della direzione artistica dei vari talenti. Ovviamente ci sono delle eccezioni, la più nota per quanto ne sappiamo è il Rey Mysterio, che ha siglato nero su bianco invece un accordo di durata più breve, ma questo è veramente un caso particolare e il dietro le quinte anche qui c'è abbastanza ignoto. Fatto sta che resteremo col fiato sospeso o avvolti nella coperta del dubbio tra Age Styles e WWE, credo ancora per un bel po' di tempo. PW Insider riferisce invece che Dolph Ziegler, che nel recente passato ha più volte smentito indiscrezioni sul suo rinnovo e anche sull'eventuale stipendio percepito, ecco, il PW Insider dice che Dolph Ziegler si sta esibendo sulla base di un accordo speciale, che tiene in considerazione dei parametri connessi ai suoi passaggi televisivi e al suo utilizzo negli show che vengono irradiati catodicamente dalla WWE. Io non so dirvi se è vero, al momento non ci sono prove concrete e definitive che sia così, però la fonte che ci riporta tutto questo di solito è abbastanza sul pezzo. Altri combattenti che starebbero considerando il loro futuro sarebbero Shinzuke Nakamura, Hugh Gallows e Karl Anderson. Tutti e tre, secondo i rumors, dovrebbero comunque arrivare a fine contratto non in tempi brevissimi ma in tempi ragionevolmente brevi. Si parla dell'autunno del 2019 come termine, come stazione da prodo, di arrivo. Comunque la sensazione attuale è che l'intero gruppo, quando arriverà al momento della firma, rinnoverà con WWE prolungando la sua permanenza all'interno della federazione. Mi trovo un po' a disagio a dovervi riferire tutti questi dati incerti e insicuri, però si fa un gran parlare di realtà potenzialmente concorrenziali che starebbero cercando di attrezzarsi per proporre un'alternativa alla WWE. E allora, visto che girano parecchie illazioni su tutto questo, è chiaro che si vada a verificare chi dalla WWE potrebbe eventualmente un domani uscire per andare a rafforzare altre sigle. Ovviamente la federazione dorme sonni tranquilli, la sua egemonia sul mondo del wrestling mondiale è assolutamente inscalfibile, però sognare non costa nulla e, a dirla tutta, se ci fosse una concorrenza forte e agguerrita, tutto il movimento ne avrebbe da guadagnarne. Aaron Chalmers, un ex star dei reality show e figura abbastanza controversa del mondo delle arti marziali miste, ha sfidato apertamente Daniel Bryan ad un match, utilizzando ovviamente i social come cassa di risonanza. Io non so se da questa cosa ne uscirà qualcosa, però il mondo ne sta parlando e dunque ve lo riferisco. Questo Chalmers è anche un fan accanito della WWE, non lo ha mai nascosto, e la compagnia ha interagito con lui in passato su Twitter, dunque potrebbe anche trattarsi di aria fritta, questa sfida Daniel Bryan, giusto per far parlare la gente. E l'utilizzo dei social in maniera, chiamiamola bizzarra, è stato confermato anche da John Cena, che finalmente ha spiegato perché su Instagram pubblica spesso fotografie apparentemente randomiche, senza aggiungere spiegazioni o motivazioni. John ha infatti rivelato che fu la WWE, a chiedergli di aprire un account anche su questo social, cosa per la quale lui era contrario, avendo già una forte presenza sia su Facebook che su Twitter, a cui dedicava parecchio del suo tempo libero. Costretto però da un'imposizione societaria ad agire, John si è detto, va bene, però a questo punto facciamo a modo mio. E da allora gestisce l'account Instagram nella maniera sibillina e stravagante che tutti sappiamo. E questa scelta pare che stia pagando, perché ogni volta che compare qualcosa sul profilo, tutti i fan iniziano ad interrogarsi sulle motivazioni recondite, su messaggi segreti, su possibili indicazioni nascoste, come se fosse un rebus, che John ha deciso di inserire in un messaggio ovviamente fumoso. Ecco, niente di tutto questo, John si diverte a pubblicare quello che gli passa per la testa. Vede una foto che gli piace? Ok, c'è una foto di Steve Austin che è uno dei suoi atleti preferiti? Via, su anche quella. Però tutti ne parlano, il buzz, il rumore si diffonde, l'immagine e il nome, il trademark di John Cena continua a risplendere. Come sad news, vi ricordo, questa è un po' più concreta, che John tornerà a combattere in WWE a fine mese e che potrebbe restarci per percorrere la strada che porta a Breast Elmania, magari ottenendo anche un match di cartello allo showcase degli immortali. Ora, John sembra libero da impegni cinematografici, salvo quelli promozionali delle pellicole che ha già girato, dunque magari potrebbe anche arrischiarsi a sostenere dei confronti differenti da quelli dell'ultimo periodo, nei quali sostanzialmente non incassava nemmeno una caduta o una mossa canonica, che dir si voglia. Parlavamo prima della solidità economica della WWE, so che qualcuno magari mi additerà come fonte non super partners, però i numeri parlano chiaro. E per ribadirvi tutto ciò, basta analizzare la prossima notizia, che ha come protagonista Vince McMahon, che ha venduto azioni proprio dalla WWE, dal suo patrimonio personale, per oltre 22 milioni di dollari. Questo denaro probabilmente confluirà a finanziare il suo progetto, che ormai è in ballo da tempo, finalizzato a lanciare una nuova lega di football professionistico, se non sbaglio la XFL. Vince a questo pallino, ci aveva già provato parecchie decadi fa, gli era andata male, ora vuole riprovarci. Il suo portafoglio, malgrado questa uscita e le uscite milionarie precedenti, che hanno già dato spinta e fatto da fondamenta per questa avventura imprenditoriale, dicevo, il suo portafoglio è comunque ancora bello, gonfio e nutrito. Visto che, stando ai calcoli più recenti, dovrebbe contenere quote convertibili al cambio attuale in circa 2 miliardi e mezzo di dollari. Questo solo lui. Poi c'è la moglie, la figlia, il figlio, tutta la famiglia. Insomma, potete immaginare bene di che patrimonio possa trattarsi. E lui non è la WWE, è un dirigente della WWE, che ha ovviamente dei bilanci aziendali. Fatto sta che i soldi da quelle parti non mancano. Siamo quasi in chiusura. Prima però tocchiamo un argomento interessante, perché proprio ieri abbiamo parlato nuovamente del progetto di globalizzazione locale della WWE. E ironia della sorte, poche ore fa, la federazione ha annunciato i suoi primi provini ufficiali in India, se non sbaglio a Mumbai, che si terranno nel marzo del 2019. Nel frattempo vi ricordo che la federazione ha appena terminato il suo scouting in Sud America, in Cile, e quindi c'è un grosso movimento. Forse presi come siamo dal tifare i nostri beniamini o dal seguire le vicende degli show settimanali e dei pay-per-view, ci accorgiamo poco di quanto la WWE stia arando il terreno davvero per imprimere il suo marchio su tutto il territorio mondiale. per diventare ancora di più l'unica sigla che farà sempre rima con wrestling, perlomeno per quanto riguarda il mainstream, che è quello che cerca. Perché mainstream uguale popolarità, uguale diffusione, uguale reddito e proliferazione della compagnia. Un piccolo reminder, gli abbonati del canale, perché il canale offre anche questa possibilità per sostenere le mie piccole spese, hanno inviato nei giorni scorsi alcune domande alla redazione Wrestling di Sky, quindi anche al sottoscritto. Sono domande magari un po' slegate l'una dall'altra, ma abbiamo risposto e se tutto va bene, entro la fine della giornata pubblicherò sia nella sezione community di questo spazio, sia sul mio profilo Telegram, tutta l'intervista che appunto abbiamo fatto con loro. ecco, tutto qua. Prima di chiudere, vi ricordo che stasera a Roe alle 18.20 su Sky Sport 1 è in replica alle 22.30 circa su Sky Sport Arena, Sky Sport 1 e il canale 201, Sky Sport Arena e il canale 204. Poi, di Taro 20, se vi va qua sotto, potete commentare tutte le notizie che ho condiviso con voi, se il video vi è piaciuto, piacciatelo, non vi costa niente, se potete, condividetelo sui vostri social, e in quanto a noi ci vediamo quanto prima sempre e solo qui sul canale del Bardo. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao!